Ciao ragazzi, io sei BokuGamer, si sono Zucchi E io sono Ryozan Eeeh, cosa dovrei fare Ryo? E oggi insegneremo a Zucchi a giocare a eFootball Si Per cui adesso facciamo subito una bella partita contro la IA raga Perché mandarla online allo sbaraglio mi sembra esagerato E niente, spolliciate tantissimo se volete vedere Zucchi che dà di matto con un nuovo gioco di calcio E iscrivetevi al canale se è la prima volta che siete qua sul nostro canale a vedere un nostro video Allora ragazzi, Zucchi ha scelto come suo primo avversario nella sua carriera il Manchester United Quindi avremo praticamente Io già bene Lol Avremo praticamente il ritorno di CR7 contro la Juve Non so se Zucchi l'abbia fatto apposta o meno Non lo so Ok puoi saltare comunque, l'abbiamo già visto l'altra volta Sì, ah bene Queste le divise Ok Tanto non si confondono Uno è biancone e uno è rossa Quindi Siamo tranquilli Non modifichi la formazione Si fida di quella predefinita Io non me ne interessa Sì, sì, c'è 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 chiacchiere da spogliatoio, non mi interessa Qua vogliamo l'azione Siamo allo Juventus Stadium Allora Zucchi Prima che inizi il tutto Con la X fai il passaggio normale Col triangolo fai quello filtrante Col quadrato tiri Col cerchio crossi Ok Per fare lo scatto Per fare lo scatto devi usare la levetta Sì, la levetta Il grilletto dietro Ma tu non correva in dritta contro CR7 Ma chi era quello? Ma chi l'ha visto? Bello Ok Cominciamo bene Allora Prima cosa Devi muoverti con la palla Altri tiri avversari arrivano Ma io non ho tirato lui Fallo, fallo Arbitro Ma cosa? Ma Povero Pogba Ma perché? Non ho detto niente di che C'è ragazzi No Guarda, guarda, guarda Eh, me l'ha ammazzata Ma cos'è? Allora Passa la colla Devi anche direzionarlo Per un passaggio Allora Non lo so fare io Ti riprendi con questo Ma cosa? E niente Ma secondo te io capisco Non ho mai giocato a questo gioco Ma lo stai spiegando Ma l'abbiamo preso col da Ronaldo Tu lo devi usare a lei Sembra scuovet Guarda Ma come sembra scuovet? Così Che c'è le guanche così Vabbè basta Mi metterò Basta Non mi interessa Allora Con la levetta a sinistra Fai anche la direzione No? Vai Passala Ok Passala in alto magari Vai Cerca di sviluppare Gioco ragionando Allora in basso Qua qua ce lo capisco Perché? Piano Perché? Secondo Secondo Cato Zitto Mi sto irritando Allora Passala qua in basso Vai Però non te ne hai troppo premuto il tasto Così Ok Un passaggio normale Ah Adesso Occhio sta arrivando Passala Aiuto In alto Ma chi l'ha data? Vai Bello passaggio Geniale Allora Allarga Allarga Perché? Allarga No Non la hizo Non la hizo Ok 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 Perfetto Vabbè Ci sta Ci sta Sto andando in scivolata malissimo Sto respirando ancora l'avversario Mario perché? Cosa devo fare? Sperare che Scesi di pari Ok Non c'è problema Vai Mia 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 No non è tua Dai dai Corri Corri Per lo scattante Come si corre? Te l'ho letto Col tasto di dietro No Super scesile Attenzione Incredibile Allora Te l'ho letto Col tasto di dietro Dai incoraggiamo Zitti con un bel applauso Allora Beh Sta dicendo cosa fare Un attimo Laggatto all'immagine No Stava pensandoci Entro questo Anno magari Mario Un nuovo bug Quale? Stava pensando a cosa fare Ha fatto schifo Tutta sta cosa Per fare schifo Sì 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 Ovviamente Beh è un brivido Di freddo però Allora Passare in basso Guarda Così In basso Su Non è così Quello è proprio in basso Eh non lo so Scusami In basso è italiano Non è un linguaggio tecnico Di football Perché? Ottimo No Mia 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 Ops Non ho fatto niente Non ho fatto niente Non stare ferma con la palla Non stare ferma con la palla Ti vengono addosso Allora Ti ho premuto questo Eh No no raga Poi non potete capire Io non ho mai giocato A uno di questi giochi Ok dovresti imparare Non ho capito Dove stai andando? Dove stai andando? Dove hai detto tu stavi andando? Ma hanno i piedi storti Quindi sì Per tua fortuna sì Dovresti essere tipo 7 a 0 E vabbè uno Gli altri l'abbiamo dati fuori Pure lui Allora Passala a lui Ok Faccio così Così esatto Piano Piano Così Perfetto Ok Adesso muoviti In alto In alto In alto Vai Così Un po' troppo Proprio più in alto Tendi a girare troppo poco Con la levetta Cioè se ti dico In alto È così Non così Così Ok 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 10 tiri totale In cui 5 in porta C'è una roba assurda Perché io devo fare queste cose Oh c'è anche un rigore parato Però c'è da dire Un po' in società Però poverina Dai corri L'altro Adesso per cambiare giocatore E' quello lì Eh ma se non lo chiedi Cosa state facendo Quello che gli stai dicendo Tu Oh Oh Shesley ti sta tenendo a galla Oh Lo stavo schiacciottassi Lui para Che te devo dire Lui E fa facendo il suo Dove Tu no Dai Zucchi Cambiamo in te Dai vogliamo vedere Un'azione di Zucchi Ti prego No non ci riuscirò Dalla in alto Eh, lì? Sì, sì, va bene Io ho premuto appena Ma Ma Stavolta era il gioco Perché stavolta Ho premuto appena Gino Ma quella è un attaccasino Oh vabbè, abbiamo fatto fare il doppietta Ronaldo Puoi toglierli i festeggiamenti Stavolta hai fatto bene Stavolta ha preso il gioco quello che voleva Non ho fatto nulla Come faccio a imparare a giocare? Se non si imparare così non si sente sabbilo Passala Vai, passala Cosa? Ah Dammela Che cosa stai facendo? Perché vuoi giocare da sola? Devi passare il calcio di un gioco di squadra No, 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 no No, no No Mia, mia Cosa è questa cosa? Mia Mi sa che conviene che facciamo un po' in società Perché? Perché non mi sembri molto Pronta per giocare da sola Sono bravissima Ho solo, sono solo Zoretty sotto Ops A bene Accetto la tua società Eh, non ce la facciamo così Lo verrete che è un altro No Mi sa la prossima volta se vogliono vedere ancora Io che ti insegno oggi Che poi ti insegno ma non mi chiedi nulla Che devo fare? Che bella domanda Eh, io non lo so cosa devo fare Guarda, devi giocare a casa Cosa ti serve saper fare? Tutto Allora Con la X passa E quello l'ho capito Così? Ah beh, qua è partita la sola Allora Tu gli puoi dare anche la direzione E quindi Opla Matic Ok Così, recuperiamo palla Poi Lanciamo subito E andiamo al fortiere loro Che almeno tocca palla Però vedi Se tu direzioni Un minimo di controllo Ce l'hai, no? Allora, vai in alto Difficile Ok, no, vai in basso A cambiare di idea Vai Cambia anche giocatore però L1 L1 Ah, L1 L2 Mio, 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 Mio Cioè, Chesley Insuperabile stasera Ha preso gol Solo quando non proprio È impossibile parare Immagino anche che cosa bella Che ne uscirà questa partita Allora No Allora Qua la cosa In basso Indica in basso Vai, passala Così Di nuovo in basso Vai No Ok Su, 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 su Non lo so cosa sto facendo Io Hai una levetta Per direzionare In su Cos'era? Cos'era? Cos'è successo? T'ho fischiato a farlo contro Come sempre Niente È finita la partita Basta che non Espella Macchiellini Per questo Ok Perché a me Ok No Dove lo stai passando? Dove gli dici tu È passata? Tu muovi la levetta Senza cognizione Così Abbiamo imparato A fare i passaggi Corti ai difensori Oggi Prossima volta Tra tre mesi Farò a giocare Allora Eh Vedete ragazzi Fateci sapere la vostra opinione Scriveteci tanti commenti Spolliciate il video E prima del prossimo Fantastico video Su eFootball Su chi mi invita? Seguisci su tutti i nostri profili Social Vi vedete nel link in descrizione Iscrivetevi al nostro Sevedisco Iscrivetevi al canale Condividete Mettete mi piace Attivate la campanella Supportateci con tutte queste azioni Noi ci vediamo alla prossima Alla prossima Ciao Non si chiude il video Prima della fine Dobbiamo far crescere La famiglia di cioccovini Qui in alto vedrete Noi e Bocco In versione mignone Cliccando su di noi Attivando la campanella Non vi perderete mai più I nostri video Fate conoscere i Pocogames A tutti i vostri amici E lasciateci un like E un commento Per dire la vostra Grazie per essere arrivati Sin fino Nonostante si due Ci vediamo Alla prossima